Adesso è ore 9.05, volo per Narita Tokyo, con sempre la catena. Volo con Narita Tokyo. Primo Konbini Store per il viaggio di nozze. Chiara già è indecisissima, non sta capendo un cazzo su che cosa bere, io sono andato su una Sapporo e abbiamo preso due ogni giri, che però non sappiamo cosa contengono. Questo mi sembra del te alla pesca. Sembra del te alla pesca, quindi penso possa andare bene. Adesso siamo diretti a Tokyo Government Building, perché ci hanno detto che dovrebbe chiudere le 10.30 a TM, quindi andiamo a vedere un po' lo sky view da lì. questo è Shibuya Pedestrian Scramble. Quindi ci sono questi sfisci e pendonagli enormi, dopo ve le facciamo vedere dove all'improvviso tutto il mondo attraversa. questo è il mio canale. Sì, credo che la canzone di Bacchi Speciali è Cipo, o meglio, degli 8.83, siamo al centro del mondo, è la girata... a Tokyo ecco questa qui potete vedere alle nostre spalle è il famoso cane a Chico se non lo sapeste c'è stato anche un buonismo a Chico era presente un cane praticamente affrontato al suo padrone che ogni giorno non aspettava l'uscita ogni giorno il suo padrone non è più tornato perché non troppo ha perso la vita e lui è rimasto fino alla morte alla strada allora fine scena su Shizermai 8.100 yen quasi 105 euro ma ci siamo scondati non era l'olio e vi dico che fino a quello che abbiamo mangiato io ho mangiato non era giapponese vabbè siamo appena arrivati era doppio assaggiare il sushi nelle prossime sere proveremo anche altre cose stay tuned ah noi ci andiamo a dormire perché è un po' stanti ci vediamo domani ciao buongiorno secondo giorno a proprio diciamo che la mattinata non è iniziata nel migliore dei modi in quanto ci siamo accorti di aver smarrito i nostri passaporti fortunatamente fortunatamente l'hotel è stato gentile ad aiutarci a ritrovarli il negozio dove sono stati lasciati li ha portati alla polizia quindi adesso stiamo andando in polizia per recuperarli siamo arrivati a Tokyo Dome uno dei parco giochi è praticamente un parco giochi incastrato nel centro commerciale io ho cambiato idea non ci vado c'è anche lo stadio qui giochino a baseball vedo anche parecchia gente in fila quindi forse vedono lo stadio o c'è qualche partita adesso ci hanno detto dove andare per fare i biglietti costa 1000 yen quindi Chiara 7 euro 7 euro Chiara allora come è andata sulle sulle montagne russie del Tokyo Dome il metro Dome vi dico solo che non ho potuto non comprare la foto che ritrovava Chiara perché aveva una faccia veramente stude è stato tutto il tempo così va bene adesso andiamo a Yanaka che è un quartiere storico di Tokyo finalmente siamo riusciti a comprare due bevande che non sono imbevibili da questi cazzo di distributori questo è tipo una Red Bull però senza le sostanze dopanti da Red Bull e niente ci vediamo alla prossima puntata Chiara saluta? un'atmosfera un'atmosfera che ascolta un'atmosfera 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 Il mio corpo è un esticcolo sto a te e poi ho mi piaccato? Eccolo il mio caso non è lungo che teneremo la qualità si riuscino che ti prendo si c'è un altro viene a você che t'inclare l'adaptare le cose stagesse St Century Noco-ta Kan-a-kakku-ta Wasu lara-re-su ni Ima sugu Ima sugu Maki modu-sita-i-to Nega-u-kedo Kida-e-shita-i ki-mo-chi-ha Mou su-te-te Kore-i-jau-ah-mae-ni-sus-me-ai-i-fi Non mi ricorda, non mi ricorda Non mi ricorda, non mi ricorda Non mi ricorda, non mi ricorda Non mi ricorda Non mi ricorda Questo che avevamo un po' di tempo era di strada Nel senso che sulla stessa linea di metro in cui poi dobbiamo andare Dobbiamo stare per non andare tra i nostri amici Abbiamo deciso di andare a vedere il tempio di Senzu-ji Questo è il tempio di Senzu-ji E' il tempio principale del complesso Ti piace, amore? E' stupendo Non so dal video se prende, però dal video Di vero è veramente molto molto bello Grazie Niente ragazzi, questa è la prima parte del nostro video di viaggio di nozze Speriamo vi sia piaciuta Vi lasciamo un piccolo recap dei posti che abbiamo visto E ci vediamo al prossimo video Ah, comunque Questo non era assolutamente te Ciao!